Allora, siamo partiti dalla spiaggia, Miriko Seitani, e adesso andiamo a vedere qual è il sentiero giusto. Si sale di qua, si continua da questa parte. Di sotto c'è la spiaggia, stamattina siamo saltati fuori da qua. E se continuiamo invece sul sentiero grande che abbiamo qui di fronte, vediamo dove arriva. Là sotto c'è la spiaggia, nel fondo c'è la megalo, il sentiero continua qui sotto, mentre noi prima siamo scesi da sopra. Il sentiero continua a picco sul mare diciamo, comunque costeggia il mare. Sempre lungo il sentiero, di ritorno. Qua ci sono dei bellissimi ulivi, che devono avere parecchi decenni. Ancola lì, come contorto. E anche questi altri, a questo. Deve essere veramente, deve essere veramente un ulivo vecchissimo. Sarà più di un metro di diametro, contorto da paura. Un spettacolo della natura, oserei dire. L'altro spettacolo della natura all'ombra. Non so se la riuscite a vedere. Una parte di sentiero è anche nel bosco. È un po' più fresco. Un pezzo di salita, su questi sassi. Sì, vabbè. Ci sembra averlo fatto stamattina, ma d'altro lato ci sembra anche impossibile, perché abbiamo fatto tutt'altro percorso. Stiamo risalendo. Ci sono dei terrazzamenti. Ma qui ce ne sono parecchi, devo dire. Per gli ulivi. Siamo curiosi a vedere dove finisce sta strada. Allora, il sentiero continua qua. Come punto di riferimento, qui mi sembra abbastanza largo il sentiero. Vediamo se continua così. C'è questa casetta qua. Diciamo che la casetta semidistrutta come tetto la si vede meglio da questo lato. E qui continua il sentiero per tornare verso Potami Beach. Allora. 200 metri prima abbiamo lasciato l'auto. Qua c'è un trivio. Un crocevia di tre strade, diciamo così. Quella principale è che sale. Anche da qua si può arrivare alla spiaggia, ma la fate più lunga, vi alzate parecchio. E poi dovete trovare il sentiero per scendere, che non è semplicissimo. Questa qui, brutta, non so dove vada. Questo è il sentiero giusto per andare alle spiagge Seitani. Piccola e grande. Vedete, su quel sasso, perché qua sul palo non c'è niente, o è scritto... Ah, anzi, adesso vedo che c'è scritto piccolo. Là c'è un sasso con una freccia rossa e una freccia gialla. Sul palo, ma deve essere proprio qua vicini, c'è scritto Seitani Beach. Non l'abbiamo visto stamattina. Annaggia noi. Comunque ci siamo arrivati, eh. Non è che ci abbiamo messo un po' di più, ma ci siamo arrivati. Bene. Spero vi sia utile come informazione. Allora... 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 Allora...